Bassano, arrivano le serate di shopping al Chiardiluna in centro storico e vengono messe al bando le bombolette spray. In occasione della manifestazione Bassano sotto le stelle in programma tutti i mercoledì di luglio, il comune ha deciso di vietare assolutamente la vendita e l'utilizzo di bombolette di vernice. Il divieto è messo per salvaguardare la sicurezza dei visitatori e l'ordine pubblico, riguarda inoltre gli spray urticanti già all'origine in Veneto di situazioni di pericolo.